questo video è stato gentilmente sponsorizzato da Matchmasters Matchmasters è un gioco con più di 10 milioni di utenti da tutto tutto il mondo è un gioco perfetto per qualsiasi momento della giornata perché è un gioco veloce e ve lo faccio subito vedere perché la grafica e i colori sono super carini e questo gioco per me è molto soddisfacente la mia parte preferita è quando uso un booster perché rende il gioco ancora più interessante puoi sfidare persone da tutto il mondo ma anche i tuoi amici ed è perfetto perché voglia di un pochino di competizione scaricando l'applicazione attraverso il link qui sotto in descrizione o scannerizzando il QR code che vedi qui di fianco otterrai una pignatta dal valore di 10 euro completamente gratis grazie a Matchmasters per aver sponsorizzato questo video e buona partita e vi ricordo il link qui sotto in descrizione per scaricare l'applicazione con la pignatta in Mazzu grazie di essere qui 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 con me oggi 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 voglio fare con voi un bel video la pizza che sto mangiando è una bellissima pizza sorgelata dopo vi farò il close up del tracing e tutto e della Vemondo è la pizza vegana della Lidl fondamentalmente sorgelata a me piace cioè non la descriverei proprio come pizza però come alimento mi piace ma mi sono sempre piaciute le pizze sorgelate tipo il mio guilty pleasure comunque eccoci qua e appunto chiacchieriamo insieme di serie tv ci aggiorniamo, facciamo due chiacchiere questa pizza sopra è piena di cipolle e stasera prendo un volo per la Germania perché andiamo a fare una sorpresa un mio amico che compie 30 anni e abita in Germania e appunto prendiamo il volo stasera che è venerdì e ritorniamo domenica sera tardi e avrò un alito per tutto il mio giocatore mentre questa cipolla è un po' di più e 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 non so se si capisca ma ho famissimo allora siete nel mio salato e sta andando anche la stufa quindi sentirete qualche volta lo schiocco del fuoco normale comunque sono molto contenti di andare a fare questa sorpresa a un nostro amico perché non lo vediamo tanto essendo una parte della Germania molto scomoda da raggiungere e e appunto abbiamo organizzato questa sorpresa quindi però tanto questo video uscirà il giovedì dopo c'è per una settimana quindi sarà già successo tutto sono molto tranquilla riguardo non spoiler o niente partiamo subito con le serie tv ma prima altro morso comunque questa è buonissima cioè lo so però è molto buona infatti si chiama poi Megan Pizza Bruschette anche loro e la vendono in Germania cioè la vendono in Italia ma si sia pensata per il la clientela tedesca soprattutto sentite dei passettini e ami va bene questi video sono un po' così sentite come snasa la prima serie tv di cui vi voglio parlare è Valeria è una serie tv che si trova su Netflix è abbastanza vecchia secondo me perché siccome ha almeno due anni almeno due anni e la sto guardando in spagnolo per chi non mi seguisse sul mio secondo canale io come proposito del 2022 avevo di cominciare a imparare lo spagnolo io a novembre ho cominciato a prendere lezioni della Carly che appunto studia e si stanno orando in spagnolo e mi ha consigliato di guardare questa serie che è ambientata a Madrid e parla di queste quattro ragazze trentenni le loro la vita di queste quattro ragazze trentenni soprattutto di Valeria e è parlato nello spagnolo tipico abbastanza cioè parla velocissimo però insomma lo sto guardando in spagnolo sottotitolato in spagnolo per farmi molto l'orecchio ecco perché altrimenti non saprei dov'è altro ascoltare lo spagnolo ve lo dovreste vedere la faccia con cui mi guarda mi ve lo giuro la faccia arrabbiata di chi mi dice come osi non condividerlo con me e adesso la faccio con gli orecchiette della serie ma stai parlando di me devo avere una telecamera puntata verso di me e una verso di lei la faccia E' molto carina come serie Molto comunque leggera Però a me piace molto vedere le serie tv Con protagoniste appunto della mia età Perché un pochino a volte mi vedo Magari mi rispecchio in certe cose O semplicemente mi rispecchio In come si vive a quell'età Cioè quali sono i pensieri tipici Quali sono Non so come dire Come va il lavoro Come vanno le amicizie Come si sviluppano le amicizie con l'età Insomma così E mi piace molto Da quel che so A solo due stagioni Io sono a metà della prima E si Molto carina devo dire E ve la consiglio Anche se magari appunto state imparando lo spagnolo Volete vedere Una serie spagnola madrelingua Non l'avete ancora vista Molto carina Molto semplice E in realtà Gli spagnoli comunque Ultimamente stanno facendo un sacco di serie bellissime Su Netflix Cioè Netflix Spagna immagino Questa è proprio la serie che sto guardando in questo momento Diciamo da sola Magari a colazione Dopo pranzo È un momento di pausa Ecco Per i cattivi Anche perché volendo guardarla in spagnolo Non posso guardarla con mio marito E perché lui proprio non piace guardare i film Le serie tv In inglese Perché proprio quando guarda film O serie tv Vuole staccare completamente Un'altra serie tv spagnola Sempre un pochino commedia Questo invece racconta La storia di quattro uomini Diciamo I tipici Non maschi alfa Però uomo Classico Non so come dire Quattro classici uomini Di 40 anni E appunto Le loro avventure Uno Vabbè Vabbè Non vi voglio spoilerare niente Comunque uno Mi ha licenziato La prima puntata Della Di primi minuti La prima puntata E E la sua compagna Diventa un influencer E Quindi c'è questa cosa Che lui non accetta Che sia lei A portare i sogli a casa E Vabbè E il tutto comincia Con loro che fanno Questo corso Per Si chiama Alfa Masculos O Masculos alfa Non sono sicura Dell'ordine Ad un punto Sempre spagnola Penso Anche quella L'abbia andata a Madrid Ma non ne sono sicurissima No Forse no Vabbè Avventati in Spagna E Comincia Con loro che fanno Un po' Obbligati Questo corso Di De costruzione Della masconità tossica Quindi dell'essere Per forza Questo maschio Alfa E poi intanto Si vedono tutti Le avventure Che li hanno portati A fare questo corso Devo dire Carina Leggera Comunque Fa ridere Molto bellina Sì Cioè Ci sta Io penso Mio marito La sta guardando Un pochino Per i fatti Su La mia guarda Un po' insieme Un po' Per i fatti Su E quindi Io penso Me la riguarderò In spagnolo Così Yeah Così la carne Sarà contenta Io non mangio Di solito Di solito Bocca aperta Semplicemente A volte La copro E faccio così Perché mi piacciono Di più i suoni Ma Se riuscite Mai a pranzo Con me Non mangio Così Vitatevi Ok Quindi queste due serie Spagnole Molto carine Molto leggera Cioè Leggera Che Si Parlano proprio Della quotidianità Delle persone E fanno commedia Sulla quotidianità Ecco Io queste serie tv Italiane Faccio fatica A vederle Ma in altre lingue Mi piacciono molto Vediamo vediamo Vabbè Ho visto mercoledì Ho fatto anche Il rewatch Quindi Mi è piaciuta Molto Perché appunto C'è più la guardia Più I riferimenti Harry Potter Sono palesi Cioè Il mood Di Harry Potter È palese Quindi mi è piaciuto Tantissimo Però Non sto Che parlarne Perché penso Che Chi l'ha già vista L'avrà già vista Chi non l'ha vista Non ne potrà più Di sentirne parlare Quindi Però Ci ho fatto anche Un video riguardo Quindi penso che Si sia capito Che ho visto la serie Però Mi è piaciuto Tanto che l'ho riguardata Dopo Vediamo poi Cosa ho guardato Abbiamo finito France Insieme Con mio marito L'ho già finito Perché ero andata avanti Ho pianto Anche la seconda volta Tutto ok Penso che anche Al decimo rewatch Piangerò lo stesso Alla fine Quindi Va bene così Le figuratevi Lo sto già Riguardando L'ho già ricominciato Sono tipo di nuova La seconda stagione Ma Con molta calma Cioè quando mi capita Guardo un episodio E No Volevo parlarvi Di una serie Accidenti Accidenti Invece Visto che mio marito Abbiamo finito France E noi Dobbiamo avere sempre Quella serie Da guardare Mentre si mangia Uno Perché io non sopporto Il rumore della masticazione E so che adesso direte Ma What Però Cioè quando ditero Questo video Non sarà un bel momento Ma va bene così Quelli col microfono Molto intensi Ancora Ancora Quelli nella vita reale Non li sopporto Non li raccomi Non è una cosa incredibile Quindi devo sempre avere qualcosa In sottofondo Se sono con qualcuno A caso ovviamente E Invece Quindi abbiamo venito France E contate che noi abbiamo guardato Tutte queste serie tv Tipo Modern Family Big Bang Theory Cosa abbiamo guardato Sono tutte queste serie tv qui Belle Intramontabili Di cui prima o poi Arrivaremo ancora in daywatch Queste cose qui C'è tutte queste serie Ormetti armate Tutte queste cose qui Le abbiamo già viste Riviste Riviste E E quindi Ne abbiamo iniziata una Che in realtà Anche questa è vecchia Ma Ci hanno consigliato tutti E hanno detto che serve un po' di pazienza In realtà Per Entrare in questa serie Però dopo È molto carina Ed è The Office Non so se sia Su Netflix O su Disney Plus Forse entrambi Sicuramente su Disney Plus E siamo alla Tarta Appondata La prima stagione Quindi Appena Appena iniziata Cosa molto fresca Devo dire che Non so se la capisco Cioè non so Se è il tipo di comicità Che mi convince Però visto che è tanto Tanto amata Voglio darle Una Voglio dare una possibilità Voglio arrivare Al Dezimo Dicesimo episodio Sono a metà Della prima stagione Se poi vedo che Non mi piace per niente Ci mollerò E poi Se cercate Questa serie tv Un pochino così Ve l'ho consigliata Anche nello scorso video Cioè nell'ultimo video Di Guardate The Supermarket E su Netflix È stata una delle serie tv Più belle Mi ci sono affezionata Tantissimo Mi ha fatto ridere Da matti E ve la consiglio Tantissimo È appunto questa Che un po' Il consente uguale The Office Cioè The Office Da quel che ho capito Proprio Questa serie tv Ambientata In questo ufficio Che vende Carta Che rifornisce Carta E invece Il Supermarket È sempre L'avventura Di questi Piegati Di un supermercato E vi giuro È Non vedo l'ora Di fare il rewatch Non lo faccio Perché Vorrei aspettare Di riguardarla Con mio marito Cioè di farla vedere Anche a lui Però Ci sono affezionatissima E non ne ho Mai sentito Parlare Prima Non è così famosa Come altre Mi ha piaciuto tanto Perché è un po' Ah quella Quella comicità A volte è un po' Stupida Però mai Troppo stupida Non lo so Mi piace un sacco L'acqua Diappolta L'acqua Che L'acqua L'acqua ho scelto di mangiare questo nel mukbang perché è un po' di croccante un po' di morbido mi piace ed era semplice da fare se proprio rascaldavo e basta perché quando fai un piatto di pasta o cosa devi avere il piatto devi organizzarti bene con i tempi invece questo rascaldi in forno e basta era molto più semplice mi sto un po' sforzando ma stasera non so che ragioniamo perché c'è un decennio di minotto green, non lo so quindi vabbè, vedrò vediamo qualche volta le cose mi vengono in mente poi mi passano l'alimento e non mi ritornano in mente vabbè, in questo periodo ho oddio, due mesi fa un mese fa ho guardato Elite che ho scoperto che in spagnolo si dice proprio Elite non Elite come diciamo noi io non so perché l'ho guardato onestamente probabilmente quando l'ho iniziata sei anni fa pare che su me era migliore adesso è proprio cioè meglio della quinta stagione però anche sto testo cioè un po' mi sembra un'euforia anche se non l'ho mai visto euforia però mi sembra un'euforia tipo un po' trash un po' è venuto male non lo so a pretesa di far vedere questa vita assurda di ragazzini ma che boh vabbè quindi mi ha detto sapete quelle serie che voi continuano a vedere se vuoi vedere mi sa la fine finisce molti sarebbero l'abbondonato tipo Lucifer Riverdale non ce l'ho fatta cioè proprio non ce la faccio di conseguirli sono troppo cadute vabbè non mi vengono in mente altre serie tipo che ho visto in questo periodo quindi se avete da consigliarmi ne consigliate magari anche meno un pochino meno famose cioè molti mi dicono chi ha ma guarda che ne so Modern Family io sono lì ovvio che l'ho guardato e o famose ma vecchie 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 proprio anni 90 o un po' più sconosciute insomma date a questa community anche proprio nei commenti date idee e scrivete un po' il genere della serie della serie tv ah poi abbiamo iniziato ma solo una puntata di Kaleidoscope che è su Netflix è una nuova serie di Netflix va bene ma mi piace e sono colosa ne manca tanto così quindi la finisco e praticamente la particolarità di questa serie tv è che parla di una rapina molto grande stile una rapina molto grande molto pretenziosa molto elaborata ecco più che altro di quella rapina in cui la più una volta quando è talmente tanto che si è a posto quasi la serie di rapina lì un colpo grosso ecco e praticamente racconta di la storia di come hanno organizzato questo colpo grosso eccetera però praticamente non ho capito come perché ho guardato solo una puntata non importa l'ordine in cui guardi queste puntate perché alla fine cioè perché ha un senso qualunque sia l'ordine con cui guardi queste puntate semplicemente finirà in un modo diverso da quello che ho capito ma la fine è sempre la stessa e c'è un episodio invece da guardare per ultimo non lo so non è stile black mirror perché black mirror almeno da come l'ho visto io ma io non l'ho visto tantissimo ogni puntata era a sé semplicemente però non erano collegate invece quello è una storia con tante puntate ma l'ordine delle puntate non cambia però la storia è fatta da tutte le puntate messe insieme non è solo lo stesso stile di puntate è proprio una serie tv completa però forse arrivo troppo a stancarsela per guardare qualcosa un pochino troppo enamorato qualcosa è perché di аются Cada av e 7 0 2 o poi 1 o da domani come attia ma il bel ma il mazzo alla baffa da ma città Non riesco a farmi una buonanotte così faccio fatica quindi spero che vi sia piaciuto questo video, questo video è uno dei più semplici che io faccio, ne faccio molti pochi, ne faccio tipo tre all'anno così però mi vengono sempre richiesti i video eating quindi mi fa piacere accontentare un pochino le richieste a volte anche se non piacciono a tutti però so che tengono molta compagnia da alcune persone o le aiutano a mangiare quindi sì, ringrazio per guardare questo video, vi mando un bacione che li spera e vi ricordo il link qui sotto è in descrizione per scaricare l'applicazione con la pignata e la matsu Grazie